Allora, ma ammazza quanto è carino questo albergo, e spagna in mezzo, e la camera pure è grossa, bella, spaziosa, luminosa, ma come ti è avvenuto bene piuttosto? Amore, lo sai, tra un po' ricominciamo a lavorare, comincia il solito tram tram, quindi volevo altri due giorni così di relax. Per noi? Sì, sì, due giorni, eh, due giorni, no, non di più. Eh, beh, va bene, ho visto, c'è pure la vicina, bella, il mare è vicino. Vicinissimo, quindi... L'unica cosa, ma le valigie dove stanno? Ah, e le valigie, ho chiamato il corriere per le valigie. Il corriere per le valigie? Che vuol dire il corriere per le valigie? Eh, perché, amore, tu che mi dici sempre, viaggiare? Leggeri. Eh, e quindi per evitare, insomma, di portare le valigie noi, ho chiamato il corriere, così noi abbiamo viaggiato leggerissimo. Cioè, tu che viaggiare leggeri hai chiamato il corriere per farti portare le valigie? E tu stanno le valigie? Di sotto. Sono tutte e due. Eh, sì. Ah, no, scusa, mi sa che manca un trolley. Speriamo che è il mio, così me ne torno a casa.